Musica Ristoranti e bar in aumento lo dicono i dati di ConfCommercio sui pubblici esercizi in provincia di Ravenna con ben 51 attività in più in due anni proprio nella stessa provincia. Ma proprio perché davvero una bar, un negozio al dettaglio, un albergo e tante altre iniziative del mondo dei servizi sono innanzitutto imprese esattamente come le grandi imprese dunque richiedono grandi competenze manageriali ma non solo di marketing, gestione e tanto altro. Per questo nasce una guida, quella realizzata da Fipe ConfCommercio, il bar della collana Le Bussole è uno strumento di lavoro che nasce sia come ispirazione sia come va di me, come vero e proprio per come gestire al meglio la propria attività. L'idea nostra è quella di essere al fianco comunque dei nostri, in questo caso i nostri baristi, i nostri professionisti ma questa collana che raggruppa tutta una serie di iniziative, tutta una serie di realtà che sono le nostre professioni che comunque abbiamo sotto alla campana di ConfCommercio. È un'iniziativa di ConfCommercio, oggi più che mai diceva è una cosa importante perché soprattutto la professionalità che viene pagata, soprattutto la serietà e anche la qualità in primis proprio perché ci sono tante situazioni di concorrenza, concorrenza anche sleale, in un certo modo anche illegale perché c'è da dire il vero, è anche questa la situazione però alla lunga vedo che i clienti sono sicuramente attirati in un primo momento da queste situazioni perché è inutile negarlo, però poi alla fine quando si rendono conto che ne va della loro salute, della loro sicurezza ci ripensano. Noi oggi diamo un aiuto, vogliamo dare un aiuto ai giovani e comunque anche alle persone che hanno già delle attività, che sono già una guida proprio perché vuole essere proprio questo vuole essere un momento di rapporto che ci deve essere con il nostro associato o comunque quello che sta per aprire un'attività e si vuole avvicinare a questo mondo come dicevo prima è un mondo veramente molto bello, è vero ci sono situazioni che in alcuni casi esagerano cioè nel senso che ci sono veramente delle situazioni di concorrenza che non sarebbero neanche da citare questo si diceva prima dell'aumento comunque che ci vuole essere che c'è dell'aumento un 51 attività nuove sulla provincia di Ravenna, sono veramente importanti perché comunque è il primo passo verso un modo, verso un momento che vuole essere quello più aperto al turismo e quindi tutta una filiera di situazioni comprese le amministrazioni che comunque devono venire dietro e verranno dietro a questa situazione, a queste innovazioni. I giovani ci credono, ci devono credere anche le amministrazioni a proporre sicuramente, come facciamo noi nel nostro piccolo conquesto, a spianare la strada o a renderla meno in salita Dove si troverà la guida? La guida sarà presso le nostre associazioni, tranquillamente si può richiedere, sarà distribuita in vari momenti di corsi in momenti di formazione che ci saranno e sarà reperibile comunque con estrema facilità Noi ci crediamo tuttora, nonostante la crisi, crediamo che comunque il nostro territorio, quindi la nostra riviera romagnola possa dare veramente un contributo importante per il turismo e far tornare comunque ancora i numeri che c'erano negli anni diversi, quindi negli anni 90 Lo speriamo, ci crediamo, siamo romagnoli, crediamo ci siamo fondamentalmente inventati il mare che in effetti non ce l'avevamo, però forse questo ci contraddistingue anche da altre regioni quindi ritengo che sia importante poter avere quello che può essere anche solamente una guida che poi si segue, non si segue, ma almeno esiste, c'è e dà importanza proprio a questa categoria perché la categoria dei bar, dei ristoranti fa la città, fa il nostro territorio, rende vivo il centro rende vivo tutto quello che noi vogliamo far tornare e che comunque cerchiamo di incrementare credendoci perché con la crisi logicamente è tutto più difficile Noi crediamo che il bar debba avere sicuramente della qualità è una ricerca proprio anche nel poter accompagnare i clienti in un percorso quindi con i prodotti del territorio, con delle colazioni alternative con un qualcosa che possa richiamare i nostri clienti o anche proprio la gente del posto quindi noi stessi per identificarli in modo diverso non lo so, per un discorso il servizio ci deve essere, quindi fa la differenza però anche con le azioni alternative, un qualcosa che possa richiamare tutto quello che abbiamo perché secondo me i prodotti del territorio sono fondamentali e ci possono portare veramente qualcosa in più e fare la differenza magari in situazioni o in zone che hanno altro, forse anche di più bello ma noi abbiamo veramente una diversità nel proporci e nel poter dare cose alternative Innanzitutto questa guida è un'iniziativa provinciale che vede tutti quanti le quattro ASCOM della provincia di Ravenna coinvolte la presentazione di questa guida l'abbiamo voluta fortemente perché siamo convinti che sia una bellissima iniziativa e uno strumento interessante da dare ai nostri operatori, sia ristoratori che pubblici esercizi in genere albergatori, bagnini o in base all'attività che hanno che comunque hanno un'attività che è legata al bar o alla ristorazione la guida sicuramente è un ottimo strumento per poter far sì che gli operatori possano essere aiutati poi fra l'altro registriamo anche un aumento di numero di queste attività e rappresentiamo anche il fatto che gli stili di guida, di vita ultimamente portino le persone sempre più fuori o al ristorante in modo particolare che a casa propria Noi abbiamo in Italia 150.000 bar, un bar ogni 400 abitanti quindi è una realtà molto affollata e soprattutto è fatta anche di molti fallimenti ci sono imprese che aprono e dopo poco chiudono perché si parte dal presupposto che gestire un piccolo bar sia semplice sia un'attività facile, basta fare un buon caffè, basta fare un buon cappuccino e tutto si risolve invece non è così, è un mercato molto competitivo dove è importante scegliere il posizionamento corretto dell'impresa e soprattutto avere una gestione corretta anche utilizzando ad esempio le nuove tecnologie di comunicazione con i clienti fare attività di promozione in modo mirato ovviamente non nella logica del commercio al dettaglio ma in modo molto più coerente con il mondo del bar e noi abbiamo un tasso di sopravvivenza del 50% a 5 anni cioè su 100 imprese che nascono oggi fra 5 anni ce ne sono soltanto 50 quindi altri 50 hanno chiuso molti pensano di aprire, insisto su questo ritenendo che sia un'attività remunerativa con bassi investimenti e poi scoprono che invece è molto difficile la gestione è anche molto impegnativo perché un bar è aperto mediamente 14 ore al giorno 7 giorni su 7 quindi è fortemente impegnativo anche a livello familiare Sì, anche per i ristoranti Per i ristoranti c'è una guida apposita che abbiamo fatto la guida chiamata la ristorazione è un mondo diverso da quello del bar per orari, per modello di business anche se oggi in molte aree si sovrappongono perché per esempio il bar sta diventando forte sul pranzo almeno in alcuni contesti territoriali pensiamo alle grandi città metropolitane c'è quindi anche concorrenza tra bar e ristorante però il problema è che ognuno deve trovare la sua strada e differenziarsi dagli altri Qual è il bar del futuro? Non esiste un bar del futuro il futuro è fatto anche di bar che restano nella tradizione quindi un buon caffè, un buon aperitivo la cosa importante è puntare non solo sulla qualità del prodotto che diamo per acquisita ma soprattutto riconfermando che il bar è soprattutto un luogo un luogo di relazione, non è un luogo soltanto di consumo I segnali di apertura di nuove attività economiche pubblici esercizi in particolare per noi per il settore turistico, per il settore commercio ovviamente sono complementari e sono fondamentali per far sopravvivere anche le altre attività economiche del settore turistico e commerciale è evidente che il segnale ci entusiasma ma ci entusiasma soprattutto la tipologia di aziende che sono state aperte, che sono più innovative che hanno un orientamento, una targettizzazione più specifica e hanno una maggior rispondenza anche ai bisogni oggi dell'offerta che sono molto articolati quindi ovviamente quello che noi auspicchiamo è che proprio si vada verso questa complementarietà e differenziazione delle attività per dare al territorio un maggior potere d'acquisto e alla nostra destinazione un maggiore interesse anche per portare nuovi turisti ormai qualunque attività non si può più definire né familiare né artigianale nel vecchio senso del termine bisogna essere manager e essere dei bravi gestori di impresa significa conoscere le regole dei costi e dei ricavi e conoscere anche quello che sono gli strumenti del marketing e della valorizzazione delle imprese tenendo conto della location dove sono collocate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti